Sindaco Borradori, la separazione della signora Carrion è una notizia importante per la città. Quali sono i motivi che vi hanno portato questa scelta? Fondamentalmente abbiamo deciso all'inizio di questa legislatura di procedere a un accorpamento del DAC e del LAC, di creare una sorta di organismo unico, quindi di razionalizzare quello che è anche la marcia d'avvicinamento, se posso usare questi termini un po' semplici e magari anche un po' banali, razionalizzare l'avvicinamento all'apertura del LAC, del centro culturale e quindi la funzione che era stata ricoperta dalla signora Carrion in definitiva è venuta a cadere, quindi abbiamo parlato di una sorta di soppressione della funzione. Quindi abbiamo proceduto a dare disdetta alla signora, però si può parlare direi quasi di una disdetta consensuale perché prima di intimare la disdetta abbiamo io parlato personalmente per abbastanza lungo con la signora, la quale ha capito bene, benissimo direi la situazione e quindi siamo arrivati a questa situazione che dalla fine del mese di agosto la signora Carrion non lavorerà più per la città di Lugare. È sempre stato il suo ruolo contestato in particolare dal mattino della domenica, da Giuliano Bignasca, che hanno duramente contestato l'assunzione fin dall'inizio. Uno stipendio troppo elevato per un ruolo non chiaro, si diceva. Ma sì, si diceva in effetti così. Diciamo che noi come municipio abbiamo voluto agire in modo estremamente razionale e oggettivo, quindi facendo astrazione da quelle che potevano essere delle polemiche passate che poi in parte erano anche state superate da quello consentito. Quindi non si è trattato certo di una misura di risparmio, anche se evidentemente questo comporta un risparmio, ma proprio di una misura di razionalizzazione all'interno del dicastero della cultura. C'è un direttore che è Lorenzo Sganzini e la signora Carrion avrebbe costituito un secondo direttore, diciamo così, questo avrebbe sicuramente, non dico causato dei problemi, ma causato un surplus a livello di direzione che non si giustificava più proprio perché si è deciso di razionalizzare questo processo di avvicinamento all'AC. Ci sono stati sprechi, secondo lei, in tutta questa vicenda dell'AC, con una costante doppia direzione che non è mai stata molto chiara per l'opinione pubblica? Diciamo che dal momento in cui abbiamo visto che potevano esserci o che ci sarebbero stati degli sprechi, se si fosse continuato con questa impostazione sicuramente ci sarebbe stato un doppione. Da questo momento abbiamo preso conoscenza della situazione e anche parlandone con la signora, perché ci sembrava assolutamente corretto e giusto avere un confronto anche molto aperto, molto chiaro con la signora Carrion, da quel momento, dal momento della consapevolezza, abbiamo deciso di procedere nel modo che oggi è uscito sulla stampa. A livello cantonale si parla di lacrime e sangue, di grandi sacrifici per i prossimi anni. Anche a Lugano c'è un progetto lacrime e sangue. Ma guardi, noi adesso avremo due giorni, proprio lunedì e martedì, in cui ci concentreremo, parleremo penso solo di finanze per rapporto ai progetti che si vogliono portare avanti, progetti grandi e anche magari quelli un po' più minuti, ma che sono ugualmente importanti. Diciamo che a noi tutti, a noi sette, piacerebbe evitare di parlare di lacrime e sangue e cercheremo di evitarlo, cercheremo di individuare quelli che sono i margini di manovra. Però certo non abbiamo sottacciuto, non possiamo sottacere che la situazione a Lugano è sicuramente una situazione molto molto delicata, che va presa sul serio, che va affrontata con la massima determinazione possibile, proprio per evitare che fra un paio d'anni le finanze escano totalmente, completamente fuori binario. Noi lo vogliamo evitare proprio per poter continuare a far politica, nell'interesse di una città che sappiamo ha tantissimi progetti, altrettanti stimoli e però evidentemente ha bisogno del carburante, il carburante sono le risorse finanziarie. Ecco, in questi momenti si parla di tagli, di soppressione di costi, di riduzione delle spese, ma anche di nuove entrate, lo si fa a livello cantonale dove è stato ipotizzato un aumento delle imposte, voi ci pensate a aumentare il modificatore? Ma guardi, io credo, per intanto non ci siamo ancora chinati, naturalmente sulle misure singole, lo faremo proprio in queste due giorni. Abbiamo detto però tutti, e credo che sia la cosa più giusta, che affrontiamo questa situazione senza avere dei tabù, senza avere delle preclusioni, dei preconcetti. Poi troveremo sicuramente, lo spero almeno ma ne sono convinto, la o le strade migliori per arrivare al risultato che auspichiamo, ripeto, nell'interesse della capacità finanziaria e della propulsività anche della città di Lugano. Quindi penso che fra qualche giorno potremo essere un pochino più chiari, ma cercheremo di valutare tutte le ipotesi e cercheremo di individuare le strade, che sono le meno dolorose e le meno delicate possibili. Ma per lei il moltiplicatore è un tabù? Ma io credo che chi fa politica non deve assolutamente avere tabù, credo però che l'aumento del moltiplicatore debba realmente costituire l'ultima razio, e prima bisogna cercare di individuare tutte le vie sotto il profilo del contenimento dei costi. Però certamente anche l'aumento del moltiplicatore può essere messo sul tavolo, come è giusto che sia, insomma, poi alla fine decideremo come organo politico cosa fare, se e cosa fare.